In mano brandiva una mannaia con una lama di 20 centimetri. Nello zaino aveva anche un coltello con una lama di 12 centimetri. Attimi di paura per gli automobilisti che ieri pomeriggio transitavano lungo via Flacco ad Abano Terme che si sono trovati davanti un uomo che camminava a piedi con la mannaia in mano. Numerose le chiamate di soccorso arrivate ai carabinieri che sono giunti sul posto e hanno fermato l'uomo che ha anche tentato di fuggire. Accompagnato in caserma è stato identificato, si tratta di un 59enne residente a Montegrotto arrestato con l'accusa di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere oltre a resistenza a pubblico ufficiale.